Buongiorno a tutti, ringraziamo Sara Silano di Morningstar e do il benvenuto a tutti voi alla seconda tavola rotonda, ci doveva essere la mia collega Manuela Donghi che salutiamo, ha avuto un piccolo problema quindi sarà moderata da me. Si parla del nuovo portafoglio pluralità di strumenti per la piena efficienza e flessibilità in tutti i contesti di mercato quindi invito i partecipanti a questa tavola rotonda a venire qui sul palco. Abbiamo Adriano Nelli, Head of Global Wealth Management Italy di Pimco, Antonio Poggialini, Sales Director di Picte Asset Management, Marco Romani, Head of Investment Advisory di CNP Partners e Luca Castorri dell'ufficio regolamentazione della Consob. Ecco abbiamo sentito parlare di portafogli, di gestione, una delle parole maggiormente utilizzate e quello della diversificazione, soprattutto quando si parla di portafoglio. In questo particolare contesto di mercato ci sono tante variabili che vanno prese in considerazione e ormai è chiaro che non si può agire più soltanto in un'unica direzione. Per questo è importante analizzare diversi aspetti che magari prima erano stati anche sottovalutati nella composizione del portafoglio anche perché viviamo anche una situazione un po' anomalo con un mercato azionario in continua crescita, quindi si cerca sempre di individuare dov'è il famoso cigno nero, cercare di prevederlo, ma i mercati per definizione sono imprevedibili e quindi ci dobbiamo dotare noi di strumenti per cercare di minimizzare il rischio. Quindi chiederei ad Adriano Nelli di iniziare dandoci quella che è l'avvio di mercato di Pimco. Intanto buongiorno, grazie per la domanda. Secondo noi il mercato in questo momento è influenzato da tre fattori principali, tre cicli, quello fondamentale, quello dell'economia, quello della liquidità e quello politico. Di tutti e tre probabilmente quello che conta di più in questo momento è il ciclo della liquidità, dominato da almeno un paio di banche centrali in questo momento, soprattutto la Fed e la Banca Centrale Europea. Cosa voglio dire? che a dispetto di un ciclo economico che è in chiara fase di rallentamento, non ci dimentichiamo che il commercio internazionale ha già propagato gli effetti negativi sulla manifattura, sulla produzione industriale, in alcuni paesi in mini recessione abbiamo molti indici, prima fra tutto quello americano, ai massimi storici. Questo perché? Perché nonostante questo rallentamento economico dietro le banche centrali hanno adoperato ulteriormente le loro ammunizioni per sostenere le valutazioni, attraverso nuove elezioni di liquidità, attraverso un messaggio molto chiaro da parte anche della Fed, cioè noi siamo pronti ad intervenire nuovamente. E questo conta parecchio, se tutto questo avviene nel momento in cui il ciclo politico, l'ultimo dei tre, è tornato a essere meno preoccupante di prima, un paio di cose, no? Il tema della uscita disordinata, Brexit disordinato è venuto un po' meno come caso centrale e dall'altra parte si auspica al quantomeno una non escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ok? Quanto meno si auspica un non escalation, addirittura una de-escalation, ecco che a questo punto il ciclo economico in rallentamento con il rischio di recessione viene un po' meno perché è supportato da l'azione delle banche centrali e da una percezione di rischio geopolitico un pochino più tenue, se volete, rispetto a prima. Ecco, parlava di questi cicli, come e che impatto hanno sugli investimenti? Ma questo poi dipende dall'interpretazione dei vari attori, no? Noi di Pinco, devo dire che un paio di cose, cerchiamo, ovviamente non è che possiamo togliere tutti i rischi dal tavolo solo perché le valutazioni sono alte, solo perché il ciclo economico è rallentamento e forse il rischio di recessione è più alto, no? Dobbiamo essere attori, protagonisti e ingaggiati sui mercati. Allora cosa si cerca di fare? Per noi in questo momento i temi sono cercare di ridurre la complessità dei portafogli, portafogli meno complessi, più agili nel senso che comunque vogliamo avere dotazioni di titoli facilmente liquidabili all'interno del portafoglio per poter trarre vantaggio di situazioni in cui il mercato può mettere in vendita precipitosamente titoli a prezzi più convenienti rispetto a quelli di oggi, quindi sacrifichiamo, lasciamo un po' di rendimento sul tavolo per dotarci della necessaria capacità di fornire liquidità al mercato qualora se ne verificano le condizioni e poi più che prendere scommesse direzionali forti su questa o quella classe di attivo, non c'è una classe attivo ovvia dove andare di investire, no? Le valutazioni sono alte, cerchiamo di identificare, mettere a pieno frutto la nostra ricerca proprietaria sul credito, la nostra capacità di individuare dislocazioni sul mercato per andare a comporre tutta una serie di piccole posizioni all'interno dei portafogli dove pensiamo di generare alfa, ce ne sono di situazioni, un paio di esempi, ci sono dei settori dove ci sono delle chiare dislocazioni all'interno ad esempio della struttura del capitale delle grandi banche, andare ad investire nel titolo probabilmente senior delle grosse banche americane è una buona idea perché alcune altre banche ad esempio dell'Eurozona quotano più o meno agli stessi livelli pur con qualità probabilmente non così elevata come le banche americane, però se scendiamo nella struttura del capitale delle banche, alcune banche europee ci accorgiamo che i premi di complessità che otteniamo sono molto più incoraggianti rispetto a quelle delle banche americane, cioè c'è molta sul mercato, il mercato obbligazionario è molto complesso e ci sono continuamente opportunità di generare valore con la gestione attiva e con l'identificazione di queste dislocazioni che ci sono sempre nel meccanismo di formazione dei prezzi. Grazie, Antonio Poggialini, Sales Director di Pictea Asset Management, cominciamo a scendere anche nel dettaglio di alcuni portafogli, è ovvio che cambia completamente se l'approccio è di breve termine o di lungo termine, cerchiamo di fare questi due distinguo. Certo, buongiorno anche da parte mia, intanto nel lavoro di costruzione del portafoglio diciamo un mestiere che è cambiato tantissimo negli ultimi anni, perché? Perché alla fine sono cambiati i mercati ma non è cambiato l'approccio al rischio dell'investitore finale, investitore finale che è un po' il punto di partenza, l'investitore finale italiano in generale da quello che ci dicono gli studi, è un investitore conservativo, quindi che era stato abituato per tanto tempo ad avere un portafoglio concentrato sul mercato obbligazionario, sempre ci immaginiamo questo 70-30, 75-25 che è un portafoglio concentrato sul mercato governativo, con una volatilità attorno al 5%, che è un po' la volatilità tollerata secondo quelle che sono date degli investimenti italiani, con una parte di azionario che vi portava magari ad avere un rendimento atteso a scadenza di circa un 4% all'anno. Quindi il cliente si è abituato a questa tipologia di rendimenti che per anni hanno mantenuto un po' la struttura del portafoglio italiano. Il problema è che il portafoglio è completamente cambiato, perché è profondamente cambiato? Perché l'intervento delle banche centrali hanno, come avete visto benissimo negli ultimi anni, un po' cambiato totalmente quelle che sono le caratteristiche intrinseche dei titoli che andiamo a comprare. Cosa significa? Significa che se oggigiorno abbiamo un cliente che ha mantenuto lo stesso profilo di rischio, perché comunque il profilo di rischio è qualcosa che è dentro di noi, non è che diventiamo un giorno più avversi al rischio, un giorno più propensi, ma manteniamo un approccio abbastanza costante nel tempo, quindi quello non è cambiato. Il problema è che con un profilo a rischio di circa il 5% di volatilità dei portafogli non è più possibile raggiungere quel 3-4% che è stato raggiunto in passato con un 70% di obbligazioni governative, un 30% di azionario. Come sapete benissimo, la parte monetaria e obbligazionaria sono mai schiacciata verso lo zero per non dire arrivata negativa e la parte azionaria ha mantenuto comunque una volatilità simile a quella del passato, però in generale lo stesso portafoglio che dieci anni fa aveva queste caratteristiche di rischio di rendimento oggi è completamente cambiato, ma non è cambiato il cliente. Quindi il nostro lavoro è completamente diverso, perché? Perché nel breve e medio periodo noi dobbiamo fare un lavoro difficilissimo, perché da un lato dobbiamo mantenere questo profilo di rischio conservativo e dall'altro dobbiamo cercare di creare un rendimento che sia più vicino possibile a quello che è stato il rendimento storico che abbiamo descritto prima e forse ad esempio per il DNA che abbiamo noi in PICT viene molto di più il controllo del rischio che la possibilità di creare valore aggiunto dal punto di vista della performance. Per questo motivo oggigiorno se uno deve mettere in piedi un portafoglio nel breve periodo forse la cosa più indicata è quella di cercare di mantenere il valore del rendimento più vicino possibile tra virgolette allo zero, nel senso non mettere troppi rischi in portafoglio, perché? Perché alla fine abbiamo visto che i mercati obbligazionali sono così tirati che basterebbe pochissimo per avere dei rendimenti negativi in modo irrepentino nel momento in cui magari un po' di liquidità sparisce e dall'altra parte la liquidità comunque è diventata un costo, quindi già avere un rendimento poco più dello zero, un qualcosa di già eccezionale nel breve medio periodo. Quello dove possiamo magari fare di differenza è invece nel lungo periodo dove è chiaro che lì il mercato azionario rimane il principe, magari investito in modo strutturato un poco per volta, però è importante come dicevo per dividere un po' le due parti tra breve e medio e medio-lungo, quindi nel breve periodo stare molto più attenti a quello che potrebbe essere il rischio intrinseco del mercato oggi, quindi mantenere un rischio molto molto controllato per avere un rendimento vorrei dire nullo, per concentrarsi sul rendimento del risparmio nel lungo periodo sfruttato in modo graduale soprattutto all'interno del mercato azionario. Ecco interessante anche l'approccio tematico che PICTE ha sposato già da tempo ma che in questo momento torna tantissimo sotto forma dei megatrend. Certo, anche qua diciamo siamo stati abbastanza precursori, noi dal 1995 affrontiamo l'approccio azionario in un modo un po' diverso devo dire e forse è un po' un ritorno alle origini del mercato azionario e cosa significa ritornare origini? Per molti anni, io ho fatto il gestore per diversi anni anche di fondi pensione, solitamente quello che si fa è un asset allocation geografica, quindi c'è un benchmark di riferimento, un portafoglio viene sezionato dal punto di vista geografico, quindi tanto di azionario americano, tanto d'europeo, giapponese, mercati emergenti eccetera eccetera e le aziende sottostanti hanno un valore minore nella scelta perché quello che facciamo solitamente si va a sovrasottofonderare delle aree geografiche e poi di conseguenza andiamo a comprare titoli che sono quotati in quella parte. L'approccio tematico è completamente diverso, ritorna all'origine perché ritorna a guardare l'azienda, ritorna a guardare gli utili delle aziende, perché? Perché alla fine sapete benissimo un po' come si impara all'università che un prezzo di un titolo azionario è dato dalla sommatoria degli utili che questa azienda farà da qui all'infinito scontati, quindi alla fine quello che a noi interessa fondamentalmente sono gli utili aziendali e per trovare gli utili aziendali sostenibili in crescita noi abbiamo identificato i megatrend, che cosa sono? Sono delle tematiche strutturali di lungo periodo che cambiano un po' il modo in cui viviamo, quindi sono tematiche sociali, sono tematiche ambientali, sono tematiche tecnologiche, il nostro obiettivo è quello di trovare quelle aziende che sfruttando queste tematiche di lungo periodo riescono a produrre degli utili più alti della media, quindi proprio un ritorno alle basi, un ritorno alle basi della finanza per dire se io riesco a comprare un titolo aziendale i cui utili dipendano non tanto dal politico di turno, non tanto dal ciclo economico, non tanto dal luogo in cui l'azienda è quotata, ma dal fatto che questa azienda cresce perché c'è sviluppo tecnologico, c'è sviluppo demografico, c'è attenzione alla sostenibilità, c'è attenzione all'ambiente, beh questo è un fattore forte, perché io con buona probabilità avevo un'azienda che nel lungo periodo aveva un prezzo più alto della media e devo dirvi che dopo 25 anni di esperienza continuiamo a farlo in modo strutturale perché alla fine i risultati ci sono, quindi è dimostrato che nel lungo periodo aziende che hanno utili più alti hanno dei prezzi più alti, se gli utili sono guidati da fattori di lungo periodo sono più certi rispetto a utili magari guidati da congenture macroeconomiche. Grazie, Marco Romani, abbiamo il piacere di avere in questa tavola rotonda anche la visione di una compagnia assicurativa come CNP Partners che in qualche modo, i cui prodotti in qualche modo rientrano anche se non direttamente nei portafogli, qual è l'approccio al cliente alla gestione da parte di una compagnia assicurativa in questo momento storico? Buongiorno a tutti innanzitutto, io partirei da alcuni dati, recentemente il rapporto Censys IPB ha dato alcuni dati sulla crescita della liquidità degli ultimi dieci anni in Italia che è arrivato a 1.400 miliardi, circa il 15% a livello europeo, a livello europeo sui conti correnti siamo arrivati a 10.000 miliardi di euro depositati e lasciati, che è un controsenso, un po' un paradosso nel contesto che abbiamo visto, abbiamo sentito dai colleghi. Perché? Questa è la domanda. Perché ci sono tante risposte? Una di queste è perché chiaramente gli investimenti monetari, gli investimenti a breve termine oggi sono negativi, il caso classico è l'applicazione di tassi negativi adesso in Germania, sui conti correnti è oltre 100.000 euro. L'approccio di una compagnia assicurativa quindi qual è? È quella di innanzitutto identificare non solo la ricchezza di un individuo o di una famiglia come la ricchezza finanziaria, cioè i saldi finanziari dell'individuo, ma cercare di individuare altre forme di ricchezza che forse sono ancora più importanti. Pensiamo innanzitutto al reddito da lavoro. Un giovane che si approccia al mondo del lavoro, la sua ricchezza non è tanto il patrimonio finanziario quanto il reddito che genererà il suo lavoro nel corso della sua vita, del suo ciclo di vita. Quindi la sicurezza di riuscire a coprire dai rischi che una persona può incorrere nel non poter lavorare, che può capitare un incidente qualsiasi altra cosa, ci porta a riflettere sul rischio di mortalità e come coprire questo rischio di mortalità attraverso cosa? Acquistando piccoli premi assicurativi ci si può diciamo coprire da questa eventualità, ovvero perdita del proprio income nel corso della vita e liberare addirittura risorse eventuali per poter spostare quello che è il focus dell'investimento nel breve termine più nel lungo termine, ovvero sui rischi assets che sono quelli poi con un rapporto rischio e rendimento migliore. Però qui poi entra in gioco anche il tema dell'orizzonte temporale e quindi dell'educazione finanziaria che è un tema sempre trasversale in qualsiasi tavola rotonda e che oggigiorno ancora in Italia vede un basso tasso di cultura finanziaria, cosa fondamentale per cercare di effettivamente approcciarsi a una pianificazione finanziaria che non veda proprio come focus quello della generazione di reddito, di asset allocation del saldo finanziario ma abbia un ampio più respiro nei confronti del cliente. Pensiamo appunto anche a questa grande massa di liquidità che ci sono sui conti, che chiaramente non sono in possesso di giovani ma sono in possesso di persone che hanno una certa età. Per quale motivo? Perché evidentemente il risparmiatore tiene una delle cause, può essere quella di far fronte a eventuali problematiche, eventuali spese inattese cosiddetto, quindi si parla di liquiditi rischi, cioè rischio di liquidità. A questo rischio ci sono tutta una serie di anche qua coperture assicurative che nel bilancio di una famiglia si concentrano quindi sul lato del passivo del bilancio familiare, non sul lato dell'attivo. Un approccio quindi più olistico nella gestione non solo del risparmio ma di quelle che sono le possibili fuoriuscite in attese, ripeto acquistando e vedendo il prodotto di copertura come una componente dell'asset allocation strategica permette di ottimizzare quello che è poi la gestione complessiva del bilancio di una famiglia. Quindi un approccio direi olistico 2.0 in quanto nei primi anni degli anni 2000 c'era soprattutto il discorso dell'allocazione dei portafogli in singoli titoli, poi c'è stata un'evoluzione, il risparmio gestito, i fondi comuni di investimento, dai fondi comuni di investimento classici, direzionali si è cominciato a sviluppare quelle che sono forme alternative, gli hedge funds, poi c'è stata la crisi finanziaria, normativa Ustiz, si cerca tutto di normalizzare, si sono introdotte le componenti alternative del private equity, del real estate all'interno, però ci si concentra sempre sull'allocazione di quella che è il saldo finanziario, il patrimonio finanziario del cliente. Spostiamo il focus anche su quelle che sono i rischi del ciclo di vita di un cliente, di una famiglia e cerchiamo di approcciare in maniera più integrata offrendo sia prodotti di risparmio ma anche coperture assicurative che permettono appunto in un contesto storico di tassi negativi, non più a zero direi quasi, ma negativi perché con la struttura dei tassi che vediamo oggi e che credo, ormai nella comunità finanziaria è andato di fatto, rimarrà per lungo tempo, è più efficiente cercare di liberare risorse su questa grande massa di liquidità piuttosto che cercare di trovare soluzioni di investimento direzionali su un asset class che effettivamente non credo potrà generare grandi soddisfazioni in termini finanziari. Ecco parlavo all'inizio della tavola rotonda di imprevedibilità, trasferire sulla compagnia assicurativa questo rischio dell'imprevedibilità senza autoassicurarsi significa giustamente come sottolineava lei svincolare risorse che poi possono essere investite e ottimizzate in altro modo? Beh sì assolutamente, se pensiamo appunto che circa il 30% del patrimonio di un cliente è immobilizzato, non si sa per quali motivi, abbiamo visti qualcuno, ma è logicamente in termini razionali totalmente non significativo, cioè è una contraddizione in sé in un contesto strutturale come quello di oggi distorto o meno che sia dalle banche centrali, avere liquidati sui conti non è efficiente, rende quello che è poi l'allocazione del patrimonio del cliente totalmente inefficiente e soprattutto a questi livelli, quindi poter usare piccole porzioni in una pianificazione che però deve partire a monte all'inizio dell'approccio di gestione del cliente può liberare a questo punto risorse che dovranno essere chiaramente poi veicolate su corretti orizzonti temporali, perché un investimento nazionale chiaramente non ha un orizzonte temporale, queste sono banalità, ma la storia ha mostrato quanto anche i cini neri alla fine siano insignificanti nel corso della vita dell'investimento del cliente, quindi quello che abbiamo vissuto negli anni del 2007-2008 è passato alle nostre spalle, quindi anche chi ha investito in quegli anni in mercati efficienti come mercati occidentali ha visto il proprio ritorno essere comunque congruo con quello che è poi l'orizzonte a distanza di dieci anni. Per cui a concludere direi che insomma ecco il paradigma della pianificazione finanziaria dovrebbe essere un attimino un pochino più allargato a 360 gradi. Bene, grazie. Rimaniamo appunto sul tema della diversificazione, abbiamo invitato qui Luca Storri dell'ufficio regolamentazione di Consob per darci testimonianza di come anche il regolatore europeo e italiano si sta orientando in una direzione che permetterà sempre più di favorire la diversificazione di portafogli. Quali sono le nuove novità? Sì, grazie per la domanda e diciamo in apertura mi sento di dover giustificare il distacco della mia relazione, del mio contributo rispetto a quello precedente perché ovviamente essendo un'autorità di vigilanza e per di più occupandomi di regolamentazione non potrò entrare nel dettaglio come chi mi ha preceduto su come si debba gestire un asset allocation efficiente perché non compete certamente a un'autorità di vigilanza e tanto più a chi scrive norme. Mentre come la domanda che mi è stata fatta mi sembrava molto pertinente perché cosa può fare un'autorità di vigilanza nazionale, cosa può fare un regolatore europeo per consentire che ci siano quegli strumenti che possano portare il singolo investitore da solo a investire in maniera efficiente e diversificata oppure a affidarsi a un gestore di attivi investendo in strumenti che non siano necessariamente gli strumenti dell'asset management più conosciuti come i fondi USITS ma che siano anche strumenti più innovativi che abbiano profili di rischio maggiori ma anche opportunità di rendimento maggiori ovviamente però limitando questo accesso soltanto a quelle categorie di investitori che il legislatore e il regolatore ritengano sufficientemente forti, sufficientemente con le spalle larghe per sopportare i relativi rischi. Quindi per quanto riguarda l'esperienza nazionale mi sembrava che un esempio diciamo calzante molto recente sia quello che abbiamo fatto non più di un mese fa come Consob con la pubblicazione del nuovo regolamento sul crowdfunding a seguito di un'istanza del legislatore nazionale che con la legge di bilancio ha modificato il TUF per consentire agli investitori singoli di accedere a nuovi strumenti di debito così che potessero acquisire rendimenti che normalmente non gli sono accessibili, gli strumenti di debito emessi da piccole e medie imprese prima non erano accessibili sui canali di crowdfunding per gli investitori, in generale per gli investitori, il legislatore ha aperto questa possibilità e al contempo ha dato a noi l'obbligo e il dovere di identificare quali fossero questi investitori diversi dai professionali che potessero accedere a strumenti che consentissero da un lato di avere rendimenti maggiori sperabilmente rispetto a quelli che normalmente potrebbero avere da altri strumenti ma dall'altro che possono presentare profili di rischio significativi. Quando ci siamo trovati a dover esercitare questa delega abbiamo quindi da un lato verificato quali fossero i rischi e dall'altro quali fossero gli investitori potenzialmente adatti a sopportare tali rischi e quindi abbiamo identificato sostanzialmente tre criteri che abbiamo ritenuto di sottoporre la consultazione e poi di verificare col mercato, hanno partecipato anche asset manager alla consultazione, anche associazioni di categorie perché è un tema che in realtà ha delle possibili implicazioni anche per i gestori di asset manager, per i gestori e quindi abbiamo identificato le categorie di investitori che o avessero una ricchezza finanziaria rilevante soprattutto i 250 mila euro che quindi potessero investire direttamente oppure che investissero con un chip di ingresso molto alto di 100 mila oppure più interessante per quanto riguarda i gestori che pur non avendo tutte queste caratteristiche si approcciassero a questi strumenti per il tramite di un servizio ad alto valore aggiunto come la consulenza e come la gestione di portafogli che veicolassero questo investimento per il tramite di una valutazione di portafogli o di una valutazione di adeguatezza e che quindi consentissero in un'ottica di portafoglio di inserire anche strumenti che possono essere rischiosi ma che possono anche consentire un asset allocation più efficiente, ovviamente in questo caso delegando la scelta non essendoci un investitore che abbia le caratteristiche che abbiamo identificato sopra in termini di ricchezza delegandola a chi fa questo per lavoro cioè a chi gestisce il portafoglio di altri e che è soggetto a doveri fiduciari. Questa esperienza non è solo nazionale perché se confrontiamo questa piccola esperienza domestica su un mercato ancora in via di sviluppo con quanto fatto a livello europeo nella Capital Markets Union e in particolare con gli strumenti EUVECA e DELTIF che sono tipicamente strumenti di asset manager fatti da asset manager che anche se in Italia attualmente non hanno un mercato così sviluppato ipoteticamente potrebbero averlo anche considerando che la Capital Markets Union pur essendo finita nella prima fase è attualmente in una fase di rilancio con la nuova commissione europea il commissario Dombrovski è rimasto al suo posto e era il commissario a cui era stata attribuita la delega nella seconda parte della commissione e che è attualmente la delega sulla Capital Markets Union ci sono state recenti iniziative di alcuni governi piuttosto rilevanti a livello europeo come quello francese e quello tedesco che hanno istituito un gruppo di esperti per il rilancio della Capital Markets Union e in una parte di questo c'è proprio un tema di rilancio di tutti quegli strumenti che consentono di canalizzare l'investimento diretto dei saver che cercano rendimenti più stabili e impegni di lungo periodo con il finanziamento dell'economia reale e questi due strumenti gli ELTIF e gli EUVECA sono proprio strumenti pensati dal legislatore europeo per veicolare gli investimenti degli investitori retail anche verso l'economia reale ma anche in questo caso essendo strumenti più rischiosi lasciatemi passare il termine rispetto agli strumenti plain vanilla il legislatore europeo ha limitato l'accesso consentendolo anche a certe tipologie di investitori retail ma anche in questo caso pensiamo gli ELTIF ha detto se ci sono un patrimonio di meno di 500 mila euro quindi un investitore anche wealth ma non certamente high ultra net worth ha consentito l'accesso a questi strumenti da un lato veicolando l'accesso alla valutazione adeguatezza e quindi torniamo a affidarci a un gestore professionale che si prenda l'onere di dire sì questo strumento può entrare nel tuo portafoglio perché è adatto in una parte al tuo portafoglio dall'altro introducendo un ulteriore presidio di tutela dicendo in ogni caso c'è un vincolo di concentrazione che viene deciso dal legislatore di non più del 10% e comunque un investimento di minimo 10 mila euro quindi mi sembrava interessante vedere come sia il legislatore europeo sia il legislatore nazionale nell'ottica di consentire l'accesso a strumenti diversi da quelli classici si sia posto il tema anche di come veicolarlo al cliente finale e ovviamente adeguando gli strumenti di tutela e limitando l'accesso soltanto a chi si ritiene sufficientemente è sicuramente un ottimo segnale sia appunto come dicevamo in ottica di diversificazione sia anche un'opportunità che poi indagheremo anche nella prossima tavola rotonda di accesso al credito per la piccola media impresa quindi questo trasferimento diretto di risorse anche all'economia reale sì certo diciamo tutto il tema della canalizzazione per come l'abbiamo visto fino adesso è un tema di garantire nuovi strumenti di investimento per gli investitori ma c'è tutta l'altro lato del tavolo tutta l'altra gamba che sorregge tutto che è il fatto che sono strumenti pensati anche non dico soprattutto ma anche per garantire a delle imprese specialmente piccole medie che non hanno un accesso diretto al mercato di borsa o non ce l'hanno in una prima fase e che possono riscontrare delle difficoltà nell'accesso al canale bancario o comunque che nella loro gestione finanziaria ritengono più utile diversificare le loro fonti di finanziamento non solo sul bancario ma anche su un investimento di altre fonti questa forma di canalizzazione viene ritenuta uno strumento efficiente per la crescita economica dell'Unione Europea e quindi del tessuto produttivo da un lato e degli investitori, dei rendimenti degli investitori dall'altro. Ecco siamo quasi in chiusura della tavola rotonda chiedo brevissimamente a voi una battuta perché mi piaceva concludere anche con un altro messaggio ok la diversificazione però probabilmente ci vuole anche equilibrio perché anche questa caccia in rendimenti adesso sta portando anche a appunto cercare diversi strumenti che poi possano aumentare notevolmente il profilo di rischio. Che cosa ne pensa Dottor Nelli? No sicuramente la diversificazione in quanto tale cioè aggiungere complessità a tutti i costi al portafoglio o codici ISIN, codici titolo portafoglio non necessariamente aumenta come dire la capacità del portafoglio di reggere gli shock, la struttura attraverso la quale le correlazioni hanno funzionato fino adesso non è detto che sia la stessa per il prossimo futuro, basti pensare come adesso abbiamo avuto una corsa molto importante di tutta la struttura dei titoli governativi emessi dall'economia avanzata e che ha portato di pari passo una grossa crescita dei listini azionari e quindi in realtà è stato estremamente correlato l'investimento in obbligazioni di elevata qualità con quello degli attivi più rischiosi e con una compressione degli spread ecco tutto questo in fin dei conti se ha funzionato il rialzo può funzionare anche il ribasso quindi è questo secondo me la grossa sfida che i gestori di patrimoni devono avere intanto non dare per assodato il modello che estrapola i comportamenti passati e le proiette nel futuro non necessariamente deve funzionare, la struttura delle correlazioni cambia e questo è credo che è l'esercizio che noi dobbiamo fare, c'è la possibilità di farlo se si hanno dei modelli accurati e se si conosce la natura degli emittenti e noi ci sforziamo questo perché ci può essere qualcosa che si piega ma non necessariamente si spezza e questo è il concetto chiave che guida oggi le nostre scelte, possiamo tollerare che il prezzo di un attivo scenda sotto la pari ma non necessariamente questo vuol dire che non ripaghi il capitale a scadenza ecco questo tipo di resistenza è quella che noi stiamo cercando oggi sul mercato Grazie, se vuole aggiungere qualcosa anche su questo tema Un po' quello che dicevo anche prima nel senso quello che non è cambiato negli anni sono le caratteristiche di tolleranza del rischio dei clienti finali che sono rimaste abbastanza stabili Il problema è che invece ottenere rendimenti passati non è la stessa cosa Oggigiorno proprio per il fatto che le banche centrali hanno cambiato un po' quelle dinamiche di creazione dei portafogli E' un po' come diceva quindi Adriano oggi è difficilissimo fare asset allocation e cercare di trovare fonti di valore però come dicevo all'inizio per noi è fondamentale non cambiare il rischio Quindi mantenere il rischio stabile perché quello è quello che riesce a tollerare la clientela finale Poi cercare di ottimizzare il rendimento significa quindi utilizzare tutti gli strumenti possibili che ci sono dalle valute alle obbligazioni, azioni, materie prime quindi tutto quello che abbiamo a disposizione con approcci non complessi però almeno ben diversificati ma per noi è fondamentale non rompere quel rischio di fiducia che è la volatilità massima Quindi preferiamo nel breve medio periodo cercare di dare via magari qualche rendimento piuttosto che andare a creare delle situazioni che poi il cliente non le gestirebbe dal punto di vista dell'emozione Quindi per noi è fondamentale mantenere sotto controllo il rischio del portafoglio cercare di proteggersi da tutti quei rischi che potrebbero arrivare come il fatto che siamo veramente in una situazione molto tirata nel senso che il mercato come dicevo all'inizio che ha dato fiducia e rendimento per tantissimi anni è ormai arrivato a dei livelli talmente tirati di rendimenti che ci sono dei rischi che magari il mercato non coglie nemmeno perché in generale anche la duration, quindi il rischio ai tassi è aumentato senza fare niente perché nel momento in cui i tassi si sono passati ovviamente a zero un'obbligazione che prima potrebbe avere una duration media, un portafoglio avere una duration media di 5-6 anni oggi ce lo troviamo a 8-9, quindi è aumentata senza fare assolutamente niente in modo passivo la sensibilità dei nostri portafogli al mercato obbligazionario e questo è un qualcosa che magari non ci rendiamo conto perché in realtà non è cambiata l'allocazione allora questo è fondamentale, mantenere sotto controllo quella che è la volatilità per una situazione futura che è sempre incerta e come abbiamo visto molto spesso le visioni macroeconomiche non vanno a essere sposate poi su quello che è l'andamento dei mercati Marco Romani Io mi trovo perfettamente d'accordo con quanto detto dai colleghi i concetti di diversificazione, di correlazione sono completamente oggi sballati nel senso che abbiamo visto recentemente il 2017 come è stato un anno in cui le asset class sono state correlate tutte positivamente il 2018 un anno in cui trovare qualcosa che ha performato è stato molto difficile quindi le correlazioni quando abbiamo iniziato a lavorare noi si diceva aspettative di recessione si allunga la duration e si va a corti di equiti oggi questo binomio è abbastanza complicato non è proprio così valido perché se uno deve allungare la duration deve andare sulle emissioni di 100 anni per avere recentemente rendimenti che abbiano un certo senso, 2% dell'obbligazione centennale dell'Austria quindi io riporto nuovamente il focus su quello che è poi la copertura dei rischi copertura dei rischi delle ricchezze delle persone anche semplicemente coprirsi da un mutuo ha un senso all'interno di un'allocazione strategica di un portafoglio, di una ricchezza perché la ricchezza di avere un mutuo che oggi ha comunque una sua validità perché è una fonte di ricchezza a prendere a prestito a questi tassi se non lo si fa oggi chiaro che poi se non si è in grado di ripagare questo mutuo si va incontro a problemi ancora maggiori per cui spostiamo il focus non tanto solo sulla gestione degli asset ma anche su quelli delle abilities Grazie, io ringrazio i partecipanti a questa tavola rotonda Adriano Nelli, Antonio Poggiallini, Marco Romani e Luca Astorri Grazie Adesso ci fermiamo per un piccolo coffee break tra l'altro c'è un corner dove potete lasciare anche il vostro parere su quella che è la consulenza comunque anche la vostra visione di mercato entrerete a far parte anche delle iniziative e delle fonti tv ci sono le telecamere lì quindi per chi avesse piacere di lasciare anche una propria testimonianza io vi aspetto per la prossima tavola rotonda quindi ci fermiamo per un quarto d'ora venti minuti mi dicono bene, a dopo grazie a tutti grazie a tutti